Andiamo alla città. Il rapporto con la città è con il territorio. Lo Uav ha sempre avuto un importante radicamento nel territorio. Ricordo ai tempi in cui studiavo che c'erano le stanze in alto che si chiamavano il Bayont, che erano proprio le stanze in cui si era redatto il piano del Bayont. Più recentemente ci sono state anche varie occasioni. Una che io ho apprezzato meno personalmente, che è stata quella della collaborazione con il Consorzio Venezia Nuova, di cui capisco le motivazioni, ma l'ho apprezzata meno nel senso che a me pare un'opera discutibile e critica e il rischio era quello di attenuare l'impatto di una cosa che comunque aveva un impatto a priori molto più grande. Ma a parte questo, c'era anche un rapporto con la città in tutti i sensi, sia con la URBS, cioè con lo spazio urbano. Ai miei tempi, ripeto, quando ero studente c'era ancora l'architettura preganziolo, che era bellissimo. Cioè facevi un viaggio e avevi una mensa in cui mangiavi in una cedraia con una vetrata sul giardino di una villa veneta. Un'esperienza che per me era fondamentale e poi bella questa cosa che era urbanistica, per cui attraversavi un pezzo, e per me siciliano che arrivava a Venezia, era un bellissimo collegamento, introduzione all'urbanistica. Poi c'è il rapporto con la Civitas e ultimamente alcuni vostri docenti hanno anche studiato gli spazi vuoti come Laura Fregolent e altri, insomma indagando e raccogliendo dati, creando una banca dati, un patrimonio di riflessioni su questo. C'è poi il rapporto anche con la politica. Innanzitutto, qual è la strategia della collocazione dello UOV? Caposcari ha puntato anche su Via Torino, sulla terraferma, lo UOV sembra invece radicato nella città storica. Qual è la vostra politica? Allora, intanto l'hai detto, noi abbiamo ormai da tempo messo in atto una strategia specifica che privilegia il centro storico, quindi Venezia, Venezia centro, rispetto ad altri luoghi, anche noi siamo presenti a Via Torino, anche noi abbiamo dei laboratori, eccetera, eccetera. Però la nostra scelta, potendo scegliere, è stata quella di investire di più sulla città. Molto chiara. Molto chiara e che derivava da una parte, dal fatto di avere storicamente e poi cresciuto nel tempo, un patrimonio edilizio che implica grande responsabilità. Un palazzo sul Canal Grande come Catron, una palazzina sul Canal Grande come la Palazzina Masieri, ex conventi come i Tolentini, come le Terese, come Badoer, ex opifici come Santa Marta, ex docs del porto come i magazzini. Insomma, tutto questo, che è una specie di sezione attraverso la storia di Venezia, implicava delle responsabilità. E questo ne siamo consapevoli. Cioè, tu hai delle responsabilità rispetto a una città che, come tutti sappiamo, sta subendo e ha subito in questi ultimi decenni un processo di spogliazione dei beni pubblici che sono stati destinati ad altro, privatizzati come alberghi, come case private, eccetera, eccetera. Noi, questo patrimonio, che è un patrimonio di grande responsabilità, cioè Catron è uno degli edifici forse più importanti storicamente, anche più belli, ma soprattutto è tra i pochi edifici rimasto a un uso pubblico in quella collocazione. Quindi, la scelta è stata una scelta consapevolmente di difesa di quel patrimonio, perché se noi, ovviamente, questo anche in parte è Ca' Foscari, ma noi abbiamo delle responsabilità di più, perché noi insegniamo storia dell'architettura. Noi abbiamo avuto docenti come Manfredotta Furi che hanno spiegato Venezia, hanno raccontato Venezia venendo da fuori. Insomma, abbiamo delle responsabilità che riguardano le cose che facciamo, il lavoro che facciamo, la formazione che diamo. Quindi, prima scelta è stata quella. Privilegiamo questo. Questo non ti sto a raccontare quanto comporti in termini di difficoltà economica, perché mantenere dieci edifici di quel tipo in condizioni ottimali implica grande sforzo. Noi stiamo, per esempio, lo dico quasi come anticipazione, portando avanti un processo di salvaguardia di Catron, rifacimento dell'interno, delle facciate, eccetera, eccetera. Nel momento in cui l'abbiamo svincolato da un uso, diciamo, un po' forse anomalo come aule didattiche, non funzionava proprio così, stiamo cercando di lavorare su un tema. Noi lo stiamo chiamando fondaco della ricerca, cioè di un luogo in cui le ricerche universitarie, un certo tipo di presenze culturali, un certo tipo di presenze anche del mondo produttivo, possono convergere in questo palazzo straordinario, nel quale abbiamo recuperato, stiamo recuperando ormai quasi tutto. L'ultimo evento sarà la facciata, stiamo incominciando i lavori adesso, tra poco, e tra due o tre mesi si potranno vedere. Ma abbiamo già recuperato interamente il sottotetto e già messo in atto una serie di interessanti collaborazioni, con Fondazione Mattei, con altri gruppi che collaborano con noi, nel mettere in atto una serie di azioni che ci vedono coinvolti. Cioè non è che stiamo affittando un palazzo a qualcun altro, stiamo con altri mettendo in atto insieme delle attività che riguardano la ricerca e le ricerche degli ambiti specifici in cui siamo. Non è sede dei dipartimenti o della ricerca istituzionale della scuola, ma diventa sede di progetti? Esattamente, ecco abbiamo usato il tema Fondaco, che forse di Fondaco ci sono un'altra cosa, e quello è un palazzo, ma insomma, giusto per capirci, cioè di un luogo in cui possono convergere iniziative diverse, nell'ambito di una ricerca che guarda il territorio, un po' quello che si diceva prima. Cioè non c'è anche la ricerca accademica, ovviamente, nelle università, questa è la ricerca specifica che guarda fuori dall'università, e che però parte dall'università come punto d'osservazione. Prego, quello è un tema che è stato molto importante. Poi tu ricordavi, lì c'è anche una responsabilità passata, tu ricordavi iniziative del passato, tu ne ricordavi alcune e in realtà ce ne sono state anche molte altre, perché il Vaiont è stato epocale, ma anche il Friuli lo è stato. Cioè alcune operazioni, tipo la ricostruzione, forse l'origine del com'era, dov'era, che era stato il caso della ricostruzione di Benzone, nascono dalle nostre aule, nascono dai nostri docenti, nascono da un'iniziativa molto specifica che poi si è nel corso del tempo anche sviluppata, perché siamo anche attualmente, siamo presenti a Matrice, siamo presenti in molti luoghi. Da questo, e su questo vorrei fare un piccolo approfondimento, perché noi siamo stati presenti, per esempio, nel Vaiont con Samonà o nel Friuli, eccetera, eccetera, non solo dal punto di vista delle operazioni di recupero, restauro, conservazione, eccetera, eccetera, che mettevano in campo le nostre professionalità che avevamo, ma anche da un'idea che è tipicamente UAB, cioè l'idea che la formazione dell'architetto sia strettamente legata alla conoscenza del tessuto, diciamo così, dell'ambito, una volta si abusava del termine contesto, diciamo dell'ambito, che è anche l'ambiente in generale, in cui tu costruisci la tua professionalità, perché quell'ambito richiede delle conoscenze particolari. Cioè, se tu non studi una città come Venezia con gli istogrammi sociali, antropologici, eccetera, eccetera, ma se vuoi comprendere la dinamica di Venezia dal punto di vista delle questioni, diciamo così, fisiche, le case, la forma della città, eccetera, eccetera, devi mettere in atto conoscenze specifiche. Ora, questo lo dico perché lo UAB ha proprio fatto questo, ha avuto una responsabilità nazionale e internazionale su questo enorme. Cioè, negli anni Sessanta, a partire poi soprattutto da quando Samona ricostruisce sostanzialmente la scuola, il tema dello studio delle città è stato un tema fondamentale. Tu ricorderai il libro sulla città di Padova, ma insomma anche l'opera di alcuni docenti, e lì si trattava di docenti noti, Imonino, Rossi, eccetera, eccetera, ma anche altri passaggi meno noti, che si ricordano meno, quello di Muratori, per esempio, di Saveri Muratori, oppure quello di Canigia, erano degli apporti molto specifici che hanno comportato, per esempio, in Venezia, la lettura della città. Cioè, in mettere a disposizione un patrimonio di letture fatte proprio operativamente, andando a rilevare i piani terra delle case, degli edifici, lavorando sul catastro e così via, una conoscenza che è stata la premessa, poi, a delle attività di trasformazione. Penso anche alle operazioni di Egre Trincanato, insomma, operazioni di lettura molto puntuali, che si legavano a operazioni di lettura, diciamo così, che anche in altri luoghi accadevano. Milano, soprattutto Milano e Venezia, da questo punto di vista, sono stati i principali poli di lavoro su questo aspetto, e che, in senso generale, per riflesso, ha messo a disposizione del nostro paese, in modo unico, devo dire, in Europa, una conoscenza fisica dettagliata delle città che nessun'altra città in Europa ha avuto. Cioè, tutte le principali città, Milano, Genova, Firenze, Napoli, Venezia e così via, sono state rilevate a tappeto, e tutto questo ha determinato una conoscenza specifica, perché poi le conoscenze, ripeto, dico la conoscenza che riguarda i fatti fisici, le trasformazioni, le architetture e così via, che nessun altro ha avuto. Ora, questo è stato anche l'altro apporto. Cioè, questa idea che trasformazione volesse dire conoscenza. Su questo ti dico, però, finisco con una domanda su questo. Da almeno 40 anni o 50 anni, tutto questo non c'è più. Non solo non c'è più, non c'è più in generale. Cioè, non c'è più un'attività che possa essere, come dire, poi sostenuta con delle prove, con delle documentazioni, che riguardi la conoscenza fisica dei luoghi. Quando noi interveniamo, e lo stiamo facendo in... Prima ti citavo a matrice, o posti di questo tipo, la prima cosa che ci mettono davanti, che ci mettono in evidenza, è che non esiste conoscenza di quei luoghi, ma non c'era neanche prima. Cioè, prima che succedesse il disastro. E la mancanza di conoscenza è, sostanzialmente, quello che sta bloccando anche la capacità di trasformarli. Per cui nessuno azzarda. Tu pensi, in un paese che ha provato il com'era, dov'era, il contrario, invece, le città nuove, eccetera, eccetera. In questo momento, questi luoghi, ormai sono anni che sono stati distrutti, non c'è un'idea su come ricostruirli. Allora, ritornando alla tua questione iniziale, penso che l'apporto che... Poi possiamo parlare di quello che sarà l'apporto, ma l'apporto che c'è stato su Venezia, dello UOV, è stato un apporto che ha riguardato la trasformazione, certamente, l'idea di una Venezia anche moderna, una Venezia che possa... E non solo Venezia, un territorio in cui un'università come la nostra potesse essere fulcro, ma anche e soprattutto la conoscenza. Per trasformare, devi conoscere. Quelle cose lì, devi conoscere. Poi non c'è relazione diretta, non c'è, non c'è mai stata, ma tu devi conoscere, perché quelli sono fatti specifici. Ecco, io penso che su questo, anche oggi UOV possa giocarsi un ruolo specifico.